La rivivrai aggiornata. Se quando ero incarnato nel Medioevo non ho appreso la lezione di vita che dovevo apprendere, mi dovrò reincarnare nel Medioevo? Commento. Non mai. Ti reincarnerai in un ambiente evolutivo che per la storia sarà il futuro e la lezione del Medioevo che non hai appreso la rivivrai aggiornata nella tua futura incarnazione.